Oggi propongo alcuni esercizi utili per allenare lo Yokogeri, tecnica di calcio utilizzata sia nei kata, molto utile anche nei bunkai. In posizione di decubito laterale sollevo la gamba, estendo e richiamo. È molto importante la fase di caricamento della gamba, la fase di estensione, ma anche il richiamo del calcio. Non sempre viene attuata nei migliori dei modi. Altra cosa importante è l'arto d'appoggio che deve essere semipiegato e non completamente teso. Con l'utilizzo di un aiuto, quindi uno strumento, può essere anche un compagno, anche un muro, proporre lo stesso tipo di movimento ma sul ginocchio. Quindi abbiamo un arto appoggiato per terra, guardiamo l'avversario e facciamo il caricamento del ginocchio, l'estensione e il ritorno. Terzo esercizio, eseguiamo già il calcio in maniera completa con l'utilizzo di un ostacolo che ci costringe a richiamare bene il calcio.